buongiorno a tutti palline rosa oggi kirby e la terra perduta ve lo dico subito l'audio dell'host di kirby sarà messa in post produzione perché obs non mi ha registrato l'audio eccoci qua canyon chiar di luna allora controlliamo tutto qua intorno va qua non c'è niente qua niente andiamo qua vieni qua ecco qua tribella tribella matita niente pensavo ci fosse qualcosa sotto ma invece nulla fiorellino perché fiorellini ci danno le monetine poche che non ha per non tornare su praticamente ho capito allora fiorellino una botte un gachapon e abbiamo preso il primo gachapon di questo mondo io li chiamavo mondi quando giocavo a mario bros e continuerò a chiamarli mondi forse perché si chiamavano mondi mario bros la sotto c'è qualcuno ed ecco un bellissimo progetto tribella doppia va bene poi dovremmo andare a fare qualche stellina con calma ed edizione andremo a fare qualche stellina qualcos'altro qua mi sono abituato a guardare un po tutto e riesco a perdermi le cose comunque quindi vabbè i platform sono così questo mi sa che serve si si rimuovi tre poster ricercato è ridondante questa cosa dei poster uuuu buocomofosi vediamo qua niente qua niente ok dai prendiamo sto sta lampadina qua che carino che faccia da scemo dai andiamo il fiorellino la dobbiamo accendere immagino per passare guardiamo se qua c'è qualcosa qua nell'angolo no qua ok via accendiamo vediamo un po' devo stare attenta a non cascare giustamente perché non so perché non ne ho idea ma credo ci sia una no se accendo quello mi sembra io credo ci sia una sottospecie di missione perché avrebbe molto senso quello mi ha visto ho visto no arca miseria eh se c'era una missione l'ho già perso ok vado avanti qui cosa c'è ok spara che vado avanti ok ciao che semo io la vedo una monetina mmm qualcosa mi dice che là c'è qualcosa e infatti e infatti c'è una stradina cosa ci sarà WODEL D eccolo là in alto WODEL D preso è il primo bene quindi va benone giù e adesso al di là io stavo andando dritta e quindi stavo precipitando malissimo proprio malissimo allora ecco salta 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 kirby eh di qua dove andiamo eh dove andiamo accendi un attimo ok la strada continua mi intanto senti fuori una monetina oppla eh dritto dritto si devo andare la immagino però qua non mi fa saltare perché non c'è il posto per saltare oppla cosa è successo ok di qua cosa succede ah ok si è alzato del pavimento con una WODEL D giustamente è presa la seconda WODEL D qualcosa qua no è di qui di qua sembra di sì ha un aspetta ok se se mi serve ancora teniamocelo perché magari mi serve di qua ci proprio non c'è niente no no quindi andiamo avanti ok ok andiamo su dopo essere caduta 25 volte andiamo su qua qua non c'è niente non mi piace la la lama però la prenderò la prenderò perché no ok ho sbagliato tasto io volevo prendermi il fuoco ma fa niente dai questo questo coso fa finta di di niente quando quando mi giro verso di lui come se io non lo vedessi come i fantasmi di Mario Bros appunto l'ho già detto forse nell'altro video iuppiii forza sono le eh eh amore mio c'è 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 c' benissimo andiamo su di qua dice qualcosa no vabbè prendiamoci il fuoco mi hai fatto togliere l'abilità e prendiamoci allora con calma e dedizione facciamo così prendiamo il panino prendiamo la sopra c'è qualcosa perché la sopra c'è qualcosa sennò non c'erano i gradini no ti pare ok eccolo qua bocomorfosi no devo schiacciare quel coso la giustamente tac e su no su ok andiamo di qua andiamo a vedere cosa succede un altro bocomorfosi ok vai dan 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 o plagio doci a pan eh quante monetine dai su prima di ecco prima che caschi tutto dove a un certo punto sembrava quasi che ci fosse qualcosa allora vedo abilità sonno perché voi lo sapete no che l'abilità sonno io non la uso mai anzi cerco di evitarla perché mi mi rompe le balle però vi faccio vedere che l'unico problema è che vi fa andare molto lenti e quindi cadete però l'abilità sonno se voi la prendete appunto cadrò giù di nuovo lo so me lo sento me lo sento infatti eh se voi la prendete potete farvi un bel pisolino e recuperare le energie qua c'è una waddle d ok sono tornata qui ah qui ok pensavo di essere tornata in quella la nell'altro nell'altra parte praticamente giù ok questa cadrà cadrà vero? no cado anch'io erano rotti lì eh vogliamo cosa vi devo dire ormai ma qua c'è qualcosa non sembra non sembra non sembra e se ci fosse qualcosa là proviamo perché dalla torre dell'orologio non mi non mi stupisce più niente eh infatti c'è qualcosa lo sappiamo un gasciaponto potevate mettermi in un waddle d eh ciorellino ok adesso andiamo su qua vediamo di di vedersi c'è qualcosa da di nascosto ok no no sembra di no sembra di no non posso andare sulle tende vabbè e anche di qua no mmm un'altra boccomorfosi un'altra boccomorfosi vediamo quanto sono capace di di pestare il muso uop guria gira eh gira ma poi non giro su aiuto 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 dai uuuh devo passare in mezzo devo passare in mezzo devo passare in mezzo di qui passiamo di qui si guaddle d presa vediamo che cosa abbiamo mancato adesso un gashapon qui c'è un coso di ghiaccio e lo prendiamo perché qua dietro sembra non esserci niente qua niente no non riproverò a fare il circuito con l'aliante mmm eh ho perso un poster che forse ho idea di dove sia mi sembra di averlo intravisto poi altre due che non riesco a capire ma va bene intanto prendiamoci queste e poi andiamo avanti con il gioco cioè andiamo avanti a cercarle state queste le abbiamo prese tutte questo cos'è completa la stanza segreta senza cadere vedete lo sapevo che non dovevo cadere a meno che non è quella con la lampadina ma è un'altra può essere bene 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 oh ci apre subito il boss ok ci apre il boss proiezione dalla valle d'insonnia va bene facciamo anche quello dopo se abbiamo tempo facciamo anche quello ok grazie vuodoldi di avermi aiutato ad aprirle abbiamo delle vie del tesoro ok e adesso andiamo a vedere dove sono gli altri eccolo qua il poster lo sapevo che era qua lo sapevo via provvediamo il resto trova nascosto i tre cactus che ci sono dietro oddio vediamo adesso ok qui cosa devo fare boh ah devo solo fare ok non ho non ho fatto la stanza senza cadere anche perché non ho capito quale stanza a questo punto non credo sia quella con la lampadina perché alla fine non sono caduta stavolta quindi allora non è quella la stanza segreta anche perché non sarebbe segreta perché ci devo passare per forza di lì vabbè vediamo la prossima volta japon bonchi 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 bonbon glunk glank non so come si dice e kirby morfo dispersa auto auto basta poi andiamo a prendere un pomodorone da tenerci di scorta no questo il pomodoro esatto che ce lo teniamo come come scorta di vita e andiamo a prenderci e andiamo a prendere questa esploratore allora ragazzi io il boss l'ho già fatto ma anche qua non aveva registrato l'audio quindi ho deciso comunque di rifarlo perché all'altro mondo no perché avevo trovato già tutto ma questo il boss comunque ho deciso di rifarlo anche se non migliorera niente ho deciso comunque di rifarlo anche perché questo è un boss abbastanza tosto collezionista della valle d'insonnia rappadillo abbiamo rappadillo che poi una volta finito tutto il gioco io cercherò di platinarlo perché io sono una perfezionista ma per esigenze di pubblicazione credo che andrò avanti così allora andiamo da rappadillo che mi ricorda una puntata di France dove c'era l'armadillo di Natale eccolo qua che ci frega altamente con allora ok via 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 non prendermi perché sennò comincio a sbattermi c'è c'è a lotolare adesso dai 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 ci vuole troppo tempo ci vuole troppo tempo del io no stavolta mi ha preso io dovrebbero fare delle io mi ha preso via anche anche perché mangiamo pomodorone questa ci mette un sacco a caricare perché ci mette un sacco dovrebbero fare una doppia premere due volte un sacco per caricare e a lui non fa niente dov'è 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 oh mio no le stelline aia voglio che botta dai che ce la puoi fare tira mi ha preso dai che manca poco se non muoio adesso è un miracolo è uno sputo di vita è uno sputo dai 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 muori rapadillo muori poi muori ci sta dai ok andato e anche rapadillo l'abbiamo sconfitto ok beh non abbiamo migliorato il tubo fa niente poi senza subire danni proprio da rapadillo poi ci proveremo e bon direi che per stavolta andiamo a nanna che abbiamo fatto ben due due mondi compreso di boss fight io vi saluto vi mando un bacio e iscrivetevi al canale e lasciatemi un commento e un mi piace ciao ciao ciao